Bene signori e signori, oggi parliamo di un po' di cose, perché parliamo di consulenza, parliamo del fatto se essere o meno un fan sia vantaggioso o svantaggioso quando ci approcciamo a un universo narrativo in cui dobbiamo dire la nostra, parleremo del Signore degli Anelli, Anelli del Potere, Dragon Age e tante altre cose. Io sono Francesco Toniolo, insegno in università, mi occupo principalmente di videogiochi e questo video che appunto mette insieme un po' di cose, un po' di spunti vari che mi sono arrivati in questi giorni da varie parti e quindi ho detto mettiamoli un po' a sistema. Intanto ieri ero a Bergamo per un convegno al monastero di Astino che ha fatto questo videogioco Incrustible e lì per esempio si parlava di consulenza, si parlava della questione appunto dell'andare a coinvolgere quelli che sono degli esperti, in quel caso ovviamente della storia di questo monastero, tra l'altro una storia molto curiosa, molto lunga, questo monastero ha quasi mille anni, ne ha almeno novecento e qualcosa e quindi insomma fino a che siamo davanti a situazioni del genere di base nessuno ha particolari problemi, non emergono particolari dibattiti, cioè è chiaro che stai facendo un videogioco ambientato in un luogo molto preciso, molto specifico, che ha una sua storia particolare, quindi chiaramente il team di sviluppo va a documentarsi, però ci sono magari quelle finezze, quelle particolarità, quelle cose che richiedono il parere di una persona esperta. In altri casi invece si aprono dei dibattiti come quello che è emerso, per esempio in una recente live, credo l'ultima, di Luca Wright, che magari vi metto il link qui sotto in descrizione, in generale qui sotto metterò un po' di link, che parlava del video che è circolato molto in questi giorni, di questa persona che lavora presso Sweet Baby Inc., che quindi fanno queste attività di consulenza e sensitivity reading e insomma è emerso un certo dibattito piuttosto acceso nei commenti, io ne ho seguito un pezzettino, io lì ero la sera in hotel, lì vicino a Bergamo, ero arrivato da Rovereto dove avevo fatto un incontro con Cristina Scabbia dei Lacuna Coil, tra l'altro, persona molto simpatica, molto piacevole, amante dei videogiochi, che ha detto una cosa che mi ha colpito, che d'ora in poi citerò, quando ci saranno le occasioni ovviamente, riportando che è un suo pensiero, cioè il fatto che benvengano anche le esperienze videoludiche per chi non è il super esperto, per chi non è abilissimo e quindi diceva che nel suo caso appunto non è la pro player della situazione, però ama molto i videogiochi e questa è una cosa molto giusta, che mi trova assolutamente d'accordo. Comunque, allora qui c'era appunto la parte della consulenza e questo discorso poi si è ulteriormente legato, come detto sono tante suggestioni che sono arrivate da varie parti, anche un po' a tutta la questione di Dragon Age, che avevo invece affrontato io nel mio ultimo video, come tantissime altre persone, avevo citato in particolar modo questo video di Lara Arlotta, che era anche molto piacevole da ascoltare, che sottolineava tutta una serie di problematiche sul gioco, legata anche al fatto che ci sarebbe questa sorta di collettivo di megafan con cui Bioware va a interfacciarsi per andare a ragionare su quelli che sono i contenuti di Vailguard, del nuovo Dragon Age. E avevo detto che è una cosa molto rischiosa, quindi già qui apriamo un attimo una parentesi che ci porta verso quella volendo che è un po' la fine del discorso, quindi vado ad anticiparlo, cioè che dipende poi sempre alla fine, caso per caso, a seconda di quello che stiamo facendo, di quali sono le persone coinvolte, capire se appunto una determinata attività di consulenza, poiché sia ufficialmente presentato come tale, sia un parere espresso in un altro modo, ma insomma comunque quando ricevo delle informazioni, dei feedback da una persona, dipende se sia un bene o un male che questa persona sia un fan della serie. E questo dipende, tra l'altro è una risposta che so a molti non piace, particolarmente questo lo vedo in tanti contesti, ma alla fine è la risposta giusta che bisogna dare, perché anche nel mio insegnamento, nella mia attività, chiaramente ci sono dei principi di fondo che uno deve seguire, insegno marketing tra le altre cose, quello è il caso dove è più evidente questo discorso, quindi è chiaro che ci sono dei punti saldi, cioè dove veramente dici il 99,999% dei casi devi fare questa cosa, ma appena andiamo oltre a questo principio di fondo, quindi che sono spesso delle cose di estremo buonsenso, che comunque magari non tutti vanno ad applicare, bisogna poi volta per volta andare a capire su quello che è lo specifico caso che cosa bisogna fare, perché a volte ci sono delle situazioni che valgono per la maggior parte delle persone, ma non per tutti. Faccio proprio un esempio concreto di passaggio anche legato al mondo dei videogiochi. Per esempio, nella maggior parte dei casi avrebbe sicuramente senso consigliare a una software house di curarsi molto bene la propria community su discord, ma ci sono dei casi dove questa cosa non è necessariamente da fare, o perlomeno non è la priorità. Quindi magari è una cosa che puoi fare se hai il tempo e le risorse, ma non è la più importante, lì dipende da certe tipologie di gioco che proprio si prestano poco a questa idea di community, di costruzione dal basso, perché dopo ci puoi fare tutta una serie di cose. Magari una volta farò anche un video a riguardo almeno su, come detto, questi principi di carattere generale. Poi dopo, appunto, in consulenza bisogna andare a vedere. Per cui mi rendo conto che, soprattutto su youtube, sui social in generale, su internet, funzionino molto meglio le posizioni polarizzanti che dicono è così, punto. Però è invece nell'abbracciare la complessità che emergono dei discorsi più significativi, quindi fare quel passo oltre. Poi tanto a me chi ha voglia di seguirmi mi ascolta, chi non ha voglia già probabilmente chiuso il video, quindi io non mi faccio problemi perché il mio lavoro comunque non è quello di essere influencer, anche perché l'influencer stesso come parola è un concetto improprio, ma anche qui ne ho parlato in altri video se volete recuperarli. Quindi io stesso, tra l'altro, forse si è già intuito, faccio attività di consulenza, che poi a volte appunto non sono sempre etichettate in questo modo, però per esempio ho fatto diverse analisi semiotiche per delle aziende anche piuttosto grandi, piuttosto importanti. Così come a volte mi è capitato invece di interfacciarmi con quelle che erano magari piccole realtà videoludiche. Quindi posso già dire in questo alcune cose che vanno a integrare un po' il discorso che era stato fatto da Luca Wright e più in generale su una cosa che molti si chiedono comunque, cioè soprattutto sul caso di Sweet Baby Inc., ma anche se lo sono chiesti in tanti sugli anelli del potere e in diversi altri casi. Cioè, ma quanto peso ha il consulente? Ovviamente anche qui dipende dei singoli casi, però quello che vi posso dire anche per esperienza personale è che in linea di massima, sottolineiamo in linea di massima, quindi ovviamente come sempre succede ci sono le eccezioni, più la realtà che ti coinvolge è grande, è strutturata e meno ha peso la singola consulenza. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che in quel caso si vanno a sentire tutta una serie di consulenti, di opinioni, di cose che vanno in direzioni un po' diverse e poi dopo vengono messe a sistema. Infatti poi di solito uno manda dei report, cioè non è che vai a fare proprio la consulenza face to face, magari te la chiedono, ma su una presentazione che riassume tutto un discorso più ampio che tu gli hai fatto, gli mandi una documentazione, ma poi da quella documentazione vai a tirare fuori una sintesi e quella sintesi viene poi messa insieme ad altre sintesi, alla fine quindi si arriva a dire che questa tale cosa conviene farla in un modo o in un altro. Ma appunto, quando io per esempio ho fatto questa analisi semiotica per McDonald's che era sui panini di Bastianich, sulla comunicazione dei panini di Bastianich, non sul panino in sé, perché insomma non è che sono un cuoco o quant'altro, però appunto sulla comunicazione di Bastianich non è che questo abbia determinato singolarmente il fatto che McDonald's abbia poi fatto meno certe cose. E chiaramente è arrivato il report del professor Toniolo, che sarei io, insieme a tutta un'altra serie di report, di pareri, di analisi, con approcci differenti, quindi ci sono parti più qualitative, più quantitative, poi qualcuno mette insieme questi dati e quindi dice ok, probabilmente in questa campagna comunicativa magari questa cosa ci conviene cambiarla perché varie fonti, varie parti ci dicono questo. Ok? Quindi immaginatevi appunto su gli anelli del potere, chiaramente il singolo consulente ha un peso relativo. Poi giustamente anche come ricordava anche Luca nella sua diretta, si fa fatica anche in certi casi a capire quando una certa persona è stata coinvolta durante un processo, perché a volte, e anche qui ve lo posso confermare, vengono presi dei consulenti all'ultimo minuto, perché questo viene fatto per mille ragioni, e a volte quindi succede anche, quindi, che sono consulenze totalmente inutili, fatte anche a volte, anche qui, da persone che sono a volte proprio dei cialtroni, a volte persone così, un po' senza arte né parte, che vengono tirate dentro, magari perché si sono vendute bene, si sono presentate bene, e l'azienda che interesse ha, che tanto sta spendendo quella che per lei è una cifra piccola, perché, ripeto, prendiamo sempre il caso di Rings of Power, cioè su quel miliardo che hanno speso, pagare qualche migliaio di dollari per un paio di consulenti, non ti danneggia minimamente, non ti sposta niente su quello che è il totale, però magari, appunto, ti dà un'ulteriore conferma, magari devi far approvare una certa scelta ai tuoi capi, e allora fai vedere il report dove dice che l'esperto X e l'esperta Y hanno detto che questa cosa va fatta in quel tale modo, e quindi questo chiaramente è un aiuto, ma sono tutte questioni interne, a volte poi, effettivamente, anche qui, in questi grandi apparati, che sono spesso pachidermici, elefantiaci, sono dei dinosauri, anche lenti a muoversi, pieni di cose, a volte capita anche che si infilino proprio, magari anche la consulenza per l'amichetto, cosa così non succede sempre, è chiaro, però può capitare, e mi era capitato un caso dove io lì non ero coinvolto come consulente, ma che era stata coinvolta una persona che dicevi, boh, perché è stata fatta questa cosa, che poi aveva dato un parere totalmente inutile, ma adesso non entrerò minimamente nel personale, ma se avete visto Boris, non so se vi ricordate l'episodio che c'è Sergio, che viene riempito di soldi dalla rete, arriva quella specie di prete mafioso, gli dice mi fai la consulenza sulla famiglia, quello gli dice tre cagati in croce, e si prende i soldi, è più o meno una cosa così, quindi quello ovviamente è un po' esagerato, è reso divertente, raccontato in un certo modo, perché è fiction, ma rispecchia un po' una realtà che può effettivamente presentarsi, quindi tutto questo per dire che dall'esterno facciamo un po' fatica a capire questo, quindi nel caso degli anelli del potere è un discorso su quelli che sono i consulenti tolkieniani, perché giustamente quello che molti hanno sottolineato, è dire questa serie non ha nulla di tolkieniano, in realtà non è proprio così, adesso ci arriviamo, quindi se vi interessa di questo ne parlo un pochino più avanti, restate con me, o se no saltate semplicemente più avanti nel video, senza nessun problema, però aggiungo anche che a me gli anelli del potere non piace per niente, quindi per me ha tutta una serie di problemi che non sono quello, ma appunto adesso ci arriviamo meglio, e quindi però è difficile capire esattamente in che modo siano stati coinvolte queste figure, tanto più con Sweet Baby Inc., il cui operato è molto discusso, e anche lì l'invito che faceva anche Luca nella sua live, quella che citavo prima, che come detto mi ha dato un po' di spunti su cui riflettere, è il dire, ognuno poi alla fine valuta come vuole l'operato di queste persone, quindi può anche dire che stanno distruggendo la gaming industry, può dire che sono dei cialtroni, però è difficile capire quanto e come sono stati coinvolti, in realtà c'è un caso che è una parziale eccezione, questo gliel'ho poi segnalato, quindi magari anche lui e Mara San Vitale ne parleranno, che è il caso di Goodbye Volcano High, che avevo avuto modo di osservare, di studiare in profondità, perché ne avevo parlato in un libro che avevo scritto, insieme alla sua parodia Snoot Game, comunque ho fatto anche lì un video su YouTube in passato, lo recuperate, racconto tutta la storia, in quel caso c'è qualche informazione in più su cosa aveva fatto Sweet Baby Inc. all'interno del processo, però è anche un caso un po' diverso, perché lì non era tanto appunto la consulenza esterna, cioè che arrivo, ti dico delle cose, ma proprio erano stati chiamati insieme ad altre persone per ripensare tutta la narrazione del gioco. Dopo che la narrative che lavorava nel team di Coop, cioè i creatori di Goodbye Volcano High, era stata, buona sostanza, allontanata, perché c'era stato uno scandalo legato a un articolo di Kotaku, che lei aveva... di Kotaku? Vabbè, comunque, è un articolo che lei aveva pubblicato, dove si parlava di questi porno amatoriali fatti con personaggi videoludici, c'erano di mezzo i personaggi di Harry Potter, quindi dei personaggi minorenni, e c'erano delle immagini esplicite all'interno di questo articolo, bufera, polverone, il fatto che questa persona fosse anche coinvolta nella scrittura di un videogioco con degli adolescenti, per quanto dinosauri, ma adolescenti, cioè Goodbye Volcano High, aveva suscitato un po' di... di maretta, come comprensibile, quindi poi non si sa anche lì se si è stata lei a tirarsi indietro, se si è stato il team a dire guarda meglio se ti allontani, però fatto sta che questa persona non ha lavorato più al progetto, e altre persone, per cui appunto Sweet Baby, hanno ripreso in mano il tutto e l'hanno cambiato. Quindi lì abbiamo qualche intervista, c'è un pochino di materiale che ci aiuta a capire almeno a grandi linee quello che hanno fatto. Comunque come detto, su questo gioco in particolare, se vi interessa, potete recuperare abbastanza facilmente questo mio video precedente. E quindi questo era un po' il discorso su Sweet Baby, che volevo dire. Quindi effettivamente, giusto dire, cerchiamo di capire comunque il più possibile qual è il coinvolgimento effettivo di determinate persone in determinati progetti, perché altrimenti si rischia di avere un'opinione che non è motivata, che non è basata su quella che è la realtà dei fatti. Perché poi uno giustamente dice, poi magari sono dei totali incapaci e dei totali netti. Però, se non ho idea di cosa hanno fatto all'interno di questi videogiochi, diventa difficile. Quindi magari hanno veramente stravolto tutto un gioco che era fatto in un certo modo e che era migliore. Magari sono stati chiamati alla fine appunto del progetto, tanto per, anche magari solo per avere, come dire, il blasone, il timbro dell'inclusività, per dire ai capi, dire, vedi no, abbiamo fatto bene la cosa, infatti abbiamo anche sentito la società di consulenza, ci ha fatto il sensitivity reading, ha detto che va tutto bene, quindi siamo a posto. e magari poi non hanno cambiato nulla in termini strutturali o magari gioco per gioco, insomma, possono essere successe tante cose. Quindi, appunto, poi ognuno andrà a valutare questo fenomeno che fa inserirsi in un discorso sicuramente molto più ampio e è una di quelle cose, tra l'altro, che non penso tratterò mai nel dettaglio perché va oltre a quelle che sono le mie competenze, le mie aree di interesse, perché si va su toccare anche questioni di politica, non proprio politica culturale, ma proprio anche di politica, su cui non sono mai stato particolarmente esperto, e quindi anche in questo caso una cosa che ho sempre imparato è che è anche bene capire dove andare a dire ok, questa è un'area in cui ho studiato, ho visto anche internamente, come detto, io ho fatto anche consulenze per realtà grandi e piccole, e quindi posso darvi perlomeno delle indicazioni su come funziona, ma poi sulla valutazione del fenomeno d'insieme lascio a persone più competenti di me. Dunque, per riassumere quest'ultimo punto, come detto, più le realtà sono grandi appunto e da un lato la singola consulenza conta meno e dall'altro è anche più facile che venga tirata dentro gente anche un po' a casaccio per le ragioni che abbiamo detto, quindi questo è. Mentre invece per una realtà piccola di solito una persona va molto focalizzata, quindi dice no, io ho bisogno di persona tal dei tali perché mi deve spiegare questa tale cosa e allora di solito ne senti uno, cerchi possibilmente una persona di cui ti fidi, che hai visto già quelle che sono le sue capacità, le sue conoscenze e quindi vai a strutturarti in questo modo. Anzi, aggiungo anche una cosa, anche quando uno inizia un percorso di studio di base all'inizio segui, è meglio seguire una singola visione, cioè una persona sola o comunque un modello di pensiero che ti dice devi fare così. Poi dopo, quando uno inizia ad avere una buona esperienza nel settore, capisci anche meglio quali sono le eccezioni a quella che di base è una regola di carattere generale. Ma se uno parte fin da subito quando sta più o meno a zero a ragionare su tutta una serie di eccezioni ma se succedesse questa cosa però c'è quel caso particolare, di solito si blocca. C'è la paralisi che deriva dall'analisi, appunto, quindi troppi dati, troppe varianti, troppe variabili di cui tenere conto, mi blocco, non so cosa fare. E torniamo al Signore degli Anelli anche, perché anche qui ho trovato delle cose interessanti nell'ultimo periodo che mi hanno fatto un po' riflettere. Una di queste è un'intervista a Ottavio Fatica che, penso lo sappiate, è il traduttore di quella che è la nuova versione del Signore degli Anelli in italiano che è arrivata qualche anno fa e che ha suscitato anche lì diverse polemiche, dibattiti, in molti casi anche esterne a quella che è la bontà stessa della traduzione. Quindi tutto si è inserito in una serie di discorsi politici, anche qui molto stratificati, che risalgono parecchio indietro nel tempo. Però, tralasciando questo aspetto, una cosa che mi ha colpito, io stavo leggendo appunto questa intervista, tra l'altro non c'entrava col Signore degli Anelli, perché stavo cercando delle informazioni su Moby Dick. Fatica ha tradotto anche Moby Dick, anche lì era stata una traduzione che aveva suscitato un po' di dibattito, solo che ovviamente parlando della traduzione di un classico, il dibattito è principalmente legato a appassionati di letteratura, studiosi, qualche pagina culturale, la cosa è finita lì. Chiaramente Tolkien, che è un fenomeno pop, enorme, questa cosa è esplosa, si è ingigantita notevolmente, perché aggiungo, per me Tolkien ha un'importanza fondamentale, cioè è probabilmente l'autore insieme a Lovecraft che più di tutti ha influenzato proprio quello che è l'immaginario che noi abbiamo in termini pop, nerd, soprattutto sulla parte occidentale, poi è chiaro che se andiamo altrove ci sono altri immaginari, ma anche lì c'è stata una grossa penetrazione comunque di questi testi, perché per esempio Lovecraft anche in Giappone è arrivato in modo molto forte, molto netto, pensiamo anche alle versioni disegnate da Tanabe, pensiamo a Bloodborne, pensiamo a tutta un'altra serie di videogiochi e di manga che sono palesemente dichiaratamente Lovecraftiani e lo stesso vale per Tolkien. Comunque insomma per me quindi ha una grande importanza in questo senso e quindi andrebbe considerato come tale per lo meno per questo aspetto che uno poi può dire va bene è solo una questione commerciale, per me è anche un grandissimo autore, ma comunque insomma torniamo al nostro Ottavio Fatica. Quindi dicevo in entrambi i casi sia con Moby Dick sia con col Signore degli Anelli c'era stato comunque un certo dibattito sul modo che ha Ottavio Fatica di tradurre. Quello che mi ha colpito a un certo punto in questo passaggio è che lui diceva che tutti i personaggi del Signore degli Anelli gli stanno antipatici eccetto Sam Vise. In realtà non è niente di nuovo cioè l'aveva già detto in varie occasioni che lui non è mai stato minimamente fan del Signore degli Anelli di Tolkien non l'ha mai apprezzato ha detto che ci sono per lui una cinquantina più di autori contemporanei di Tolkien che sono molto molto più bravi di lui e che non capisce perché ci sia tutta questa esaltazione per Tolkien e al massimo la concessione che va a fare che dice se proprio vogliamo ragionare in un'ottica di genere allora può essere un un pilastro nel genere fantasy che però può come dire sei sei il re degli sfigati perché non è un genere comunque che apprezza e che ritiene interessante e significativo rispetto a quelli che sono appunto i classici cosa con cui non sono d'accordo ma questo appunto è un po' un altro un altro discorso quindi chiaramente anche anche in virtù di questo ci sono state delle attività da parte di altre persone che invece sono esperti tolkieniani che avevano lavorato insieme a Ottavio Fatica e che gli hanno dato dei pareri perché giustamente Fatica è un si presentano appunto arriva lì dicendo io sono esperto di letteratura di traduzione di questo campo qui di Tolkien non ne so niente e neanche mi piace quindi su quella parte lì ci vuole qualcuno che andasse a verificare che poi i contenuti tornassero che magari una certa cosa tradotta in un certo modo che aveva senso dal punto di vista del traduttore e del letterato magari poi andava a creare dei degli intoppi su quella che è invece la traduzione la tradizione scusate la tradizione degli studi tolkieniani e quindi magari usciva fuori qualcosa che in realtà si discostava dal pensiero di Tolkien o emergevano delle altre incongruenze ora aggiungo anche una cosa chiunque abbia fatto da consulente credo sicuramente Wuming 4 e qualcun altro passo lungo il forestale gli si poteva anche magari dire di toglierlo perché capisco che il ranger sia tipo il ranger smith dell'orso yogi però non è che ha avuto solo quel significato nella storia e trovarsi passo lungo il forestale non è proprio il massimo della vita così come qualche altra scelta non è proprio il massimo della vita per cui capisco che ci si dovesse discostare dalla traduzione precedente giusto comunque sono state messe a posto diverse cose per me ma qui parlo a livello di gusto soggettivo parlo a livello di gusto soggettivo diverse scelte soprattutto a livello di nomenclatura non le ho apprezzate particolarmente poi io non sono uno studioso tolkieniano ho letto tanto di e su tolkien l'ho letto ho iniziato a leggerlo alle medie quindi insomma è un amore è anche una passione che mi porto dentro da lungo tempo ho letto un gran numero di saggi sulle opere di tolkien ho anche giocato più o meno tutti i videogiochi usciti su tolkien ma quello è un po' un altro discorso si lega invece più a quello che faccio per cui non mi reputo ecco comunque uno studioso tolkieniano però qualcosa ho letto qualcosa insomma sul sul pensiero di tolkien penso e spero di averlo capito ma a livello di nomenclatura non vado a entrare nel dibattito perché non sono un traduttore e non sono appunto un esperto tolkieniano ma non mi piacciono ecco quindi a livello puramente personale avrei fatto delle scelte abbastanza diverse mi trovo d'accordo con delle posizioni che ho trovato espresse appunto anche leggendo un po' in giro documentandomi su questo su questo dibattito perché lì mi è capitato anche di dover andare a citare in alcuni miei libri tra cui uno era una pubblicazione internazionale sul fantasy italiano e in altro era il mio libro su Elden Ring della questione proprio appunto di queste varie traduzioni e mi trovo d'accordo soprattutto con chi con chi segnalava con con grande buonsenso che ci sono tutta una serie di di approcci diversi alla traduzione di un testo e che è anche scorretto chi definisce questa com'è la traduzione definitiva perfetta perché proprio è sbagliata la premessa di fondo cioè sul fatto che ci sia un qualcosa di definitivo quando ci sono varie modalità di approccio alla questione comunque quindi anche qui abbiamo avuto dei consulenti ecco per l'appunto e mi veniva in mente anche questo caso perché c'è un po' questa triangolazione tra la nuova traduzione che comunque è uscita qualche anno fa ma è sempre ancora fresca nel dibattito cioè se probabilmente andate in qualsiasi gruppo di Tolkieniani o anche di letteratura fantasy in generale e dite ma che versione mi consigliate del Signore degli Anelli è come lanciare una bomba a mano in un centro commerciale e vedere l'effetto che fa cioè un casino totale per cui è ancora molto fresca Anelli del Potere chiaramente che lì stanno rintuzzando tutto questo discorso sulla fedeltà a Tolkien che tocca anche i consulenti come detto e quanto siano e debbano essere fan quanto debbano essere appassionati di una certa cosa e poi rimane sempre sullo sfondo per confronto per contraltare Agli Anelli del Potere è quella che è la trilogia cinematografica del Signore degli Anelli di Peter Jackson quindi in quel caso tra l'altro era e tanto più emergeva in modo interessante questo confronto perché alla trilogia cinematografica quasi tutti gli attori erano dei fan sfegatati del Signore degli Anelli proprio appassionatissimi adesso mi pare fosse Christopher Lee che diceva che leggeva Il Signore degli Anelli una volta all'anno quindi mi pare fosse lui comunque adesso questo punto prendetelo con beneficio di inventario però comunque tranne pochissimi gli attori principali erano veramente veramente tanto appassionati e direi tra l'altro che in un caso del genere questo ha contribuito all'interesse che è emerso verso questa questa trilogia dove dove c'è una grande una grande passione che tra l'altro non è una trilogia fedele in tutto attenzione anche questo infatti è il discorso della della fedeltà che avevo detto prima che l'avremmo recuperato adesso ci arriviamo però abbiamo appunto da un lato questo che va a contrapporsi a Ottavio Fatica che dice che gli stanno sono tutti antipatici i personaggi del signore degli anelli che lo reputa un testo minore poco significativo rispetto a quella che ha la grande letteratura e rispetto anche agli anelli del potere dove anche lì ci sono state varie dichiarazioni sul sullo svecchiare Tolkien e tanto altro poi alcune sono state un po' mal interpretate però di fondo c'è comunque questo fatto cioè che sito bello Tolkien ma fino a un certo punto quindi preso singolarmente come detto questo non vuol dire di base che sia necessariamente indicatore di qualcosa che vada bene o male perché per esempio comunque la nuova traduzione di Ottavio Fatica da molti è ampiamente apprezzata poi adesso qui mi viene anche da dire forse una cosa magari qualcuno poi dopo ti dice sì quella scelta quell'altra cioè si fa anche secondo me mandar giù un po' di cose perché come dire lì rientra anche un po' il discorso politico quindi per non anche un po' quasi per fare un dispetto diciamo ai nostalgici di destra allora dico che mi piace anche più magari di quanto non sia magari invece no però mi è capitato di parlare poi con qualche persona anche sul versante canelli del potere che magari poi pubblicamente non è che dicano la cosa più bella del mondo però ti dicono sì vabbè serie gradevole poi dopo quando magari ci parli in un altro contesto dicono vabbè però ho una cagata questa serie qua però appunto anche per esempio la nuova traduzione comunque hai avuto il suo apprezzamento e lì si torna al fatto che non bisogna per forza di cose essere dei fan quando si è dei professionisti anche se in certi casi aiuta o comunque se non lo si è è bene coinvolgere quelli che sono delle figure professionali gli anelli del potere poi un punto che torna e ritorna più o meno a ogni puntata è la fedeltà la questione della fedeltà all'opera originaria su cui si è detto tutto il contrario di tutto io vi dico anche che degli anelli del potere ho smesso di vedere qualunque cosa lo trovo veramente ben poco interessante proprio il contrario dell'interesse avevo un po' iniziato anche per capire l'andazzo perché comunque ho amato molto appunto il signore degli anelli come immaginario i film li avevo amati molto in realtà non quelli dell'Hobbit già lì mi era mi ero rimasto molto deluso molto scottato non perché poi fosse qualcosa di brutto ma qualcosa di largamente inutile cioè molto allungato diluito infatti avevo poi visto e l'avevo trovato a suo modo comunque un po' meglio una versione fatta dai fan che avevano fatto tutto un taglio ai cuci quindi avevano tolto tutta una serie di super mega filler perlomeno girava non era comunque una cosa appunto particolarmente interessante tanto meno gli anelli del potere dove anche qui non ho interesse a vederlo non mi non mi interessa minimamente e devo dire non ho nemmeno interesse nel fare quelle visione per fare poi le rage reaction su youtube o altrove dire fa tutto schifo è la cosa più brutta del mondo è una serie diciamo quando avevo visto i primi pezzi avevo detto una serie mediocre poi adesso forse probabilmente anche peggiorata però molti hanno sottolineato appunto il fatto che che non sia fedele a questa quella tale cosa di tolkien e devo dire non è secondo me la motivazione giusta per attaccarlo perché tanto ci sono dei fior fior di consulenti tra l'altro anche parenti di tolkien e in realtà poi quando uno va a vedere carte alla mano è fedele ma è una fedeltà di facciata cioè è vero che uno dice sì perché non so anche ho visto adesso la questione gli orchetti hanno la famiglia e quindi si cerca di umanizzarli e questo non va bene perché per tolkien erano il male puro bla 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 in realtà poi appunto se uno va a vedere certe lettere di tolkien lui si mostrava per lo meno possibilista sul fatto di dire sì è una cosa che non sono andato ad approfondire però in realtà sarebbe difficile considerarli proprio il male puro per tutta una serie di ragioni proprio anche a livello di etica e quindi anche loro poi avranno delle loro famiglie ci sono degli accenni a questo discorso ma appunto è il punto sbagliato secondo me su cui andare a parlare della questione perché sì sicuramente si trova sempre la lettera si trova la nota a piedi pagina dove Tolkien aveva in realtà detto questa cosa o quell'altra ma è una fedeltà di superficie di facciata cioè va bene anche va anche tutto a incastrarsi magari più o meno coerentemente all'interno di quella che è la lore di questo mondo il termine lore però giustamente dopo video e video discorsi libri eccetera sui souls viene sempre da parlare della lore quindi magari va anche a inserirsi molto bene all'interno di quest'ottica tutti i tasselli sono al loro posto ma per fare cosa per tirar fuori qualcosa che poi alla fine di Tolkieniano nello spirito nella sostanza nel messaggio per me ha poco cioè è un grande giocattolone è una grande fanfiction e tante fanfiction attenzione sono estremamente puntuali su tutti gli aspetti minuziosi fateci caso soprattutto chi segue un po' il mondo delle fanfiction è chiaro che alcune sono totalmente inventate rielaborano qualunque cosa ma altre su quelli che sono i dettagli sono di una precisione mirata cioè sanno dirti qualunque cosa che neanche l'autore a volte si ricorda neanche l'autore sa a volte perché il fan appunto è quello che sta lì mette a posto tutti i tasselli se li studia ma magari poi non ha colto quello che è lo spirito quello che è il senso originario profondo dell'opera o magari l'ha colto ma anche giustamente perché lì si parla di fanfiction in tutta libertà personale decide di trasformarlo in qualcosa di totalmente differente e lì va bene perché è un'operazione dichiarata ho scritto una fanfiction che si ispira a X benissimo niente di male uno può metterci quello che vuole poi tanto saranno gli altri fan a dirti è bello brutto è precisa o non è precisa quindi io sono d'accordo con chi dice che gli anelli del potere è una specie di hanno detto la fanfiction più costosa del mondo ma non perché è infedele ma proprio in questo senso cioè a questa fedeltà nel senso che poi tutti gli elementi di critica di superficie sul fatto di dire ma gli orchetti ma quello ma questa cosa qui ma in realtà si trovano lì in tale regione ma dovrebbero essere lì di fianco è chiaro che poi salta sempre fuori quello che ti dice no in realtà vedi c'è questa questa nota mai pubblicata cioè questa cosa se guardi bene la nota a piedi pagina dei racconti perduti di pagina 48 c'è scritto che ti dice sempre che volendo una soluzione si trova che sono anche cose molto molto da non lo dico in senso negativo da nerd tolkieniani cioè proprio da persone super fissate super appassionate ma tutto questo sforzo questa questa potenza che viene data anche sicuramente da dei consulenti in questo si molto attenti cioè che probabilmente si sono letti e studiati ogni parola che Tolkien abbia scritto ma viene usato uno sforzo enorme che va poi a produrre qualcosa che io trovo nel migliore dei casi superfluo perché non ci vedo niente di tolkieniano in quello che è lo spirito tolkieniano in quelli che sono poi grandi messaggi cui Tolkien ci ha abituato e su cui magari una volta o l'altra farò un video ogni tanto dico poi che farò video su questo e quello poi solo alcuni li recupero però può essere interessante magari anche coinvolgendo qualche persona che ne sa più di me cioè che ha proprio studiato perché ripeto io non non mi reputo comunque uno studioso tolkieniano assolutamente ho letto tanto l'ho meditato tanto mi ha ispirato tantissimo però lì mi fermo ok però appunto non ci vedo non ci vedo niente di tutto questo quindi è proprio classica immagine della montagna che va a partorire il topolino alla fine dopo uno sforzo enorme un qualcosa ti aspetti qualcosa di megagalattico e poi va a perdersi tutta una serie di cose poi dopo ci sono altre cose questionabili ho visto video di ogni genere che vanno a parlare anche per esempio di come sono costruite le battaglie e quant'altro e anche lì sarebbe bello sentire poi qualche proprio qualche oplologo qualche esperto di storia delle armi dei combattimenti ed intorno comunque il fatto qual è che appunto non starei più di tanto a basarmi nel criticare la serie sul fatto di dire non è fedele su questo e quell'altro perché poi tra l'altro anche la trilogia cinematografica non è che fosse fedele in tutto cioè tante cose comunque erano state cambiate perché in alcuni casi si è reputato che funzionassero meglio sullo schermo alcune parti sono state tolte altre proprio sono stati cambiati un po' alcuni personaggi che dovevano essere in certe situazioni ce ne erano degli altri anche per non moltiplicare all'infinito un cast che era già piuttosto consistente per dare un po' più di risalto ad alcuni personaggi per sottolineare meglio certe tematiche quindi anche anche lì ci sono stati dei cambiamenti a volte anche comunque abbastanza significativi ma mi viene da dire che c'è stato anche molto più molto più amore verso ciò che è il il senso appunto che Tolkien vuole trasmettere attraverso le sue opere forse lì non è stato un caso avere una grossa parte del cast che fosse anche molto appassionata poi magari non c'entra niente assolutamente quindi riprendo il mio stesso discorso di prima magari questa cosa è totalmente ininfluente quindi il fatto che fossero tutti super appassionati di base lo possiamo sapere fino a un certo punto perché sì è vero abbiamo tutti i racconti cosa hanno fatto sul set Aragorn che tira il calcio all'elmo e tante altre cose quindi a volte qualcosina trapela anche su come ci si sia interfacciati anche da parte degli attori stessi all'immaginare questi personaggi e questo mondo più che immaginare questo mondo immaginare la resa cinematografica di questo mondo ma possiamo arrivare solo fino a un certo livello però è comunque ecco significativo come detto siamo un po' davanti a questa a questa triangolazione poi appunto gli anelli del potere per me stanno un po' sparendo cioè sono sì spinti perché è una macchina enorme anche lì Amazon ha una potenza comunicativa enorme ma non è qualcosa che non attecchisce poco nell'immaginario collettivo molto meno rispetto alla trilogia appunto cinematografica quindi secondo me poi i dati che vengono riportati sono relativi sono sempre interpretabili ricordiamo anche che non abbiamo mai dei dati totalmente precisi sulle piattaforme streaming cioè non è come il box office cinematografico dove hai un riscontro molto diretto poi anche in quel caso il dato è sempre interpretabile perché uno può fargli dire un po' quello che vuole non nel senso che vai per forza a manipolare il dato nel senso c'è scritto 10 emetto 100 o viceversa ma nel senso che posso fare un po' il gioco delle tre carte e questo lo si fa da sempre andando a confrontarlo con certe cose rispetto ad altre posso far apparire che qualcosa è stato molto più di successo o molto meno di quanto non sia nella realtà però a prescindere da questo può anche essere che magari stia venendo visto davvero dall'universo mondo da 15 miliardi di persone quindi quasi il doppio di quelle che ci sono sul pianeta ma è una visione che non attecchisce in profondità tranne in qualcuno vedo ogni tanto a volte dei post di persone mi sembrano comunque sinceramente molto appassionate contentissime ogni episodio quindi bene per loro sono molto contento io come detto ho smesso di guardarlo e penso che non lo toccherò mai più nemmeno con un bastone a meno che non mi trovi obbligato da qualche circostanza esterna perché quello che ho visto mi è bastato preferisco impiegare in modi diversi il mio tempo chiudo riprendendo un po' anche Dragon Age Dragon Age Veilgard l'ultimo video che avevo fatto qui su YouTube nella parte finale dicevo un po' questa cosa cioè attenzione al coinvolgimento dei fan come detto perché lì invece in quel caso non siamo davanti a la consulenza di un esperto di una particolare cosa quindi è un caso diverso perché appunto non è come Ottavio Fatica quindi bravissimo traduttore che però dice io di Tolkien non ne so non mi interessa quindi arrivano dei Tolkieniani che gli danno dei consigli non è il caso degli Anelli del Potere dove hai la consulenza di Tizio Caio e Sempronio non è il caso della della mega corporation che chiama Sweet Baby Inc o qualunque altra cosa non è nessuno di questi casi lì siamo davanti a questo coinvolgimento diciamo grassroots dal basso quindi che vado a prendere questi fan e mi interfaccio con loro che come avevo detto è una cosa molto pericolosa perché bisogna sempre riuscire a filtrare poi quello che il fan crede di volere da quello che poi realmente vuole intanto posto che ovviamente i fan sono molto differenziati molto variegati però a volte le persone tirano fuori tutta una serie di idee ah come sarebbe bello se in questo gioco in questo libro in questa serie ci fosse X e poi se uno andasse veramente a proporre gli X direbbero no ma è brutta questa cosa qua o magari piacerebbe solo una piccolissima parte di loro che credono però magari di parlare a nome di tutta la community e questo è un po' il pericolo anche qui che si vede con le fanfiction perché fanfiction tra l'altro su Dragon Age ce ne sono parecchie quindi vuol dire che su quel versante funziona come serie cioè i personaggi di Dragon Age sono molto performativi quindi quello è un punto anche a favore della serie anche di quelli che sono stati Inquisition e il 2 quindi capitoli già un po' minori per avere da dire su una serie di 3 videogiochi se 2 sono minori però comunque insomma anche in quei casi quello sicuramente è stato un elemento interessante perché comunque è sempre stato una delle caratteristiche di punta di Bioware cioè la performatività dei personaggi il fatto che non solo sono interessanti non solo sono delle persone che dici wow questi comprimari voglio saperne di più sono curioso ma e li puoi anche mettere in tanti contesti differenti cioè hanno tutta una serie di strati di layers e quindi a seconda di dove vai a guardare di quanto scendi in profondità nella loro personalità nel loro immaginario puoi prendere degli aspetti che magari un'altra persona non considera e quindi inventarti anche tutta una serie di storie originali o anche di artwork di immaginari che vanno in direzioni molto diverse e questo quando si verifica chiaramente funziona molto bene chiaramente è un un grande vantaggio non è per forza poi una una caratteristica che rende migliore in senso assoluto un personaggio però sicuramente ci puoi giocare un po' di più cioè il classico esempio che faccio facevo in passato soprattutto in questo in quest'ottica è per esempio che i personaggi appunto come quelli di Dragon Age o anche di Resident Evil nel Village in particolare sono molto performativi cioè quando è uscito Village Alcina Dimitrescu Don Beneviento Muro Heisenberg li avevano presi in centomila modi diversi e ogni volta a seconda della persona ci leggeva qualcosa di di differente quindi in un caso Alcina che diventa madre amorevole in un altro invece diventa un'icona queer in un altro diventa fa invece la sorellona di Heisenberg eccetera eccetera quindi a livello proprio di fan art di fan fiction di immaginari prendevano centomila direzioni diverse tra cui anche ovviamente quella sexy quella erotica mentre invece per esempio Aloy di Horizon è un personaggio molto più statuizzato cioè più marmorea nel senso lì è meno meno malleabile perché rappresenta l'eroina che diventa un'icona quindi è anche giusto nell'intento del personaggio che rimanga con questa natura però quindi è meno cioè prende meno direzioni diverse infatti molte fan art di Aloy sono Aloy che fa Aloy cioè che è lì in posa con l'arco va a caccia magari si fa il sorrisino però è lei è quello che vediamo all'interno del gioco mentre invece come detto su altri personaggi puoi fargli prendere mille strade differenti perché c'è già un seme c'è già un elemento che è lì in nuce in presenza all'interno del gioco originario questo anche con Dragon Age ma anche con Mass Effect si è visto è saltato fuori di tutto e di più sui personaggi sui comprimari di Mass Effect che sono fantastici in tanti casi e hanno questo questo potenziale comunque questa parentesi per dire che appunto quindi sì certo Dragon Age ha avuto tante fanfiction quindi è chiaro che ci sia questo interesse che hai questa componente di fan che probabilmente ti sta dietro anche se molti altri rischi di perderli quelli che ancora non se ne sono andati rischi però di perderli per cercare di conquistare un altro pubblico senza riuscirci è vero che hai questo piccolo zoccolo duro da coltivare che ti segue appunto per per fare le fanfiction anche sostanzialmente che non c'è nulla di male non lo sto dicendo come un elemento negativo ma è pericoloso coinvolgerli anche qui poi bisogna capire come funziona esattamente questo coinvolgimento però è qualcosa che appare potenzialmente rischioso perché come detto devo essere sicuro di avere questo filtro perché poi magari se no vado a buttare dentro una serie di cose nella storia che funzionerebbero bene in una fanfiction ma che non sono poi quello che che i fan desiderano o meglio come avevo detto l'altra volta quello di cui hanno bisogno cioè ciò che li interessa veramente ciò che li stuzzica realmente ciò che tocca delle corde profonde dentro di loro e che gli fa dire caspita veramente ma che bella questa storia che bello questo personaggio che bello questo videogioco poi magari vai a leggerti la fanfiction trovi quell'idea e dici ok carina anche questa interpretazione ma ma non ti smuove così tanto in profondità quindi bisogna vedere e magari stanno gestendo molto bene questa cosa magari no perché a volte come detto dalla community ottieni delle idee che sono molto interessanti che vale sicuramente la pena seguire come ho detto anche l'altra volta in Mass Effect tali e Garrus come opzioni romantiche non erano inizialmente previste poi sono andati in quella direzione anche perché hanno visto che la community a gran voce chiedeva questa cosa ma hanno anche presumibilmente visto che era un qualcosa che funzionava effettivamente bene e sono riusciti magistralmente nell'intento direi perché sono due delle opzioni romantiche poi più apprezzate più o meno da tutti di solito se andate a vedere le classifiche sono appunto ce ne sono varie quindi sono abbastanza lunghe di solito un po' a seconda della classifica ma primi posti di solito c'è tali Liara Garrus in vario ordine Liara anche perché è un po' considerata da molti la romance tra virgolette canonica perché per tante ragioni perché Liara in tutti e tre i giochi perché è praticamente l'unico personaggio dei tre Mass Effect l'unico compagno di squadra che può morire solo in una occasione ed è molto molto rara questa cosa devi avere una reattività galattica bassissima da li portare nella terza nella missione finale di Mass Effect 3 eccetera eccetera e poi piace molto Jack molto Tank Rios però comunque sono sono sempre di solito perlomeno nella top 5 e spesso anche proprio ai primissimi posti quindi vuol dire che il il suggerimento era interessante che l'hanno sfruttato bene qui in Veilgard non lo so ho qualche dubbio poi sono anche qui ho scritto risposta a qualche commento ma lo dico anche sono lietissimo di essere smentito in futuro cioè io in realtà voglio molto bene a Bioware soprattutto per Mass Effect ma anche Dragon Age Origins in particolare l'ho amato tanto quindi non non tifo minimamente per il fallimento di Veilgard spero che arrivi poi qualche colpo di coda che salti fuori un qualche asso nella manica che per ora personalmente non ho visto e non vedo tutto tutti questi elementi che lo porteranno al successo però giustamente può sempre capitare quella che è l'eccezione può capitare anche in negativo adesso magari se un'altra cosa che mi ero segnato di fare magari la faccio prossimamente era parlare anche del fatto che avere tutta una serie di pareri positivi da parte sia degli influencer sia della community anche quando sono pareri genuini e non quindi ho pagato l'influencer ma genuinamente gli piace il tuo gioco non si converte automaticamente in un successo e qui abbiamo proprio dei casi ve ne porto magari alcuni con dei numeri riportati dagli sviluppatori stessi quindi li prendiamo quelli come esempio perché perché almeno abbiamo un dato concreto su cui andare a ragionare per cui magari faccio faccio questo discorso che era un po' riemerso appunto per dire che sì per carità c'è anche ovviamente qualcuno a cui sta piacendo Veilgard e come anche con gli anelli del potere mi fa molto piacere per lui o per lei però non è un elemento che di base vuol dire molto prima di tutto perché non sono così tanti pareri e poi perché appunto dobbiamo prenderli con certe caratteristiche perché se no alla fine io ero anche nel mi ero iscritto al canale discord di Dustborn e anche lì ovviamente trovavi delle persone che erano super esaltate per Dustborn ma sappiamo tutti com'è andata anche con Concord anzi con Concord è stato ancora più forte cioè vi davvero delle persone che avevano un amore viscerale molto forte molto genuino verso questo videogioco ma non erano un numero sufficiente rispetto a quello che è il costo del gioco cioè se fosse stata quella community di Dustborn scusate di Concord per un piccolo gioco indie una prima esperienza sarebbe stato qualcosa di meraviglioso cioè gli sviluppatori sarebbero stati davvero anche tra l'altro genuinamente contenti dell'amore e dell'affetto da parte di questa community il problema è che per quello che è costato Concord il discorso non si applica così come per quello che sta costando Dragon Age comunque si è parlato un po' di tutto e di più per voler tirare le somme quindi ci sono tante cose che ci possiamo portare a casa una di queste al fondo è di ragionare sempre il più possibile caso per caso perché abbiamo in effetti tutta una serie di situazioni che nascono appunto da contesti differenti da persone differenti eccetera eccetera che ci portano in direzioni diverse quindi è difficile anche lì per esempio dire in senso assoluto è bene che tu sia un fan o che coinvolgi dei super fan oppure no mi viene da dire in linea di massima se dovessi indicarlo nel buio così escludendo da ogni contesto preferirei coinvolgere un fan però non è sempre detto e quindi qui per esempio vediamo il caso di Dragon Age ci sono stati tanti tanti casi poi che conosco anche che non ho citato dove magari a volte una dei creativi si trovano adesso vi faccio un esempio apposta inventato perché non mi va di parlare di persone che mi hanno raccontato questa cosa poi non so se quanto sono stati ufficialmente coinvolti però facciamo finta non lo so voi siete dei fumettisti vi arriva la richiesta di fare il fumetto brandizzato di Hello Kitty voi di Hello Kitty non ne sapete niente almeno in modo informale se c'è una persona che conoscete questo è un mega fan di Hello Kitty chiedo se sto facendo bene poi in quel caso ovviamente ha anche tutta una una bibbia super dettagliata di Hello Kitty non puoi modificare mezzo orecchio c'è scritto tutto quello che puoi non puoi fare però magari in altri casi non è così quindi ti danno delle informazioni di carattere generale tu dici sì boh ma questo personaggio si comporta in questo modo non lo fa e chi è che posso inserire non lo so mi chiedono di farle parlare con un certo personaggio che fa certe cose ma esiste questo personaggio all'interno della lore di Hello Kitty o me lo devo inventare e quindi ecco che mi era capitato appunto di di parlare con delle persone che magari erano molto molto esperte su determinati universi mediali che erano state appunto coinvolte a volte anche senza una consulenza ufficiale ma per attingere alla loro esperienza però va sempre fatto con con attenzione questa cosa e boh ditemi anche voi così cosa ne cosa ne pensate di Dragon Age ho visto molti hanno risposto anche nel video precedente ma anche degli anelli del potere delle traduzioni del signore degli anelli sono di varie cose che abbiamo citato sentiamo un po' come come vedete questi questi prodotti se vi stanno interessando e ci vediamo al prossimo video